FURIVOLTA A GIONA FURIVOLTA A TARSIS FURIVOLTA A GIONA Spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose, sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra. Quegli uomini furono presi da un grande timore e gli domandarono, che cosa hai fatto? Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero, che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi. Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro, prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Quegli uomini cercarono a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero, Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero John e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, suo Dio, e disse, Nella mia angoscia ho invocato il Signore, ed egli mi ha risposto, Dal profondo degli inferi ho gridato, e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde, sopra di me, sono passati. Io dicevo, sono scazzato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore, mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi, abbandonano il loro amore, ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio, e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore, e il Signore parlò al pesce, ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino, e predicava. Ancora quaranta giorni, e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio, e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco, e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi, fu poi proclamato a Ninive questo decreto. Uomini e animali, armenti e grezzi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco, e Dio si ha invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno, e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Pregò il Signore. Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Odunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose, ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò ad oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra alla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino, ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, affoso. Il cielo colpì la testa di Giona e si sentì venire meno e chiese di morire dicendo «Meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino?» Egli rispose «Sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire». Ma il Signore gli rispose «Tu hai pietà per quella pianta di ricino, per cui tu non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, e che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone, che non sanno distinguere la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali». Aller… 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 Grazie.